Ciao ragazzi, oggi è una cosa, infatti i nostri epikanimus negli abissi sono spropinna nera, è il dugongo. E poi la cosa più importante che volevo dire era che, ah mi ba, c'è uno mi da fa, stai fermo, stai fermo, eh, che ringraziarvi per i, stai, per i 102 iscritti, vabbè, 100 dico, grazie ragazzi, grazie, non immaginavo manco, non so, non so che non avrei superato manco la soglia dei, stai, mi basta, non ce la faccio più, la poesia, mi basta, basta, non ce la faccio più, non ti sopporto più, ehi, c'è scassato, la poesia, mi basta, basta, non ce la faccio più, non ti sopporto più, ehi, c'è scassato, stavo dicendo ragazzi, non mi immaginavo che non superavo i due, i dieci iscritti, grazie, grazie ragazzi, ciao, prossimamente arriverà uno speciale, consigliatelo nei commenti, cosa volete che faccio, grazie ragazzi, ciao.